Musica Vi ricordate quando pochi giorni fa parlavamo dello youtuber francese che si è chiuso in un canile e in polemica con il proprietario di Canal Plus ha rifiutato di cedere all'emittente esclusiva del servizio? Benissimo, il proprietario, l'abbiamo già detto, si chiama Bolloré è uno degli imprenditori più ricchi e in vista in Francia e in Italia ha già investito moltissimi dei suoi capitali finendo pure per sedere nel consiglio di amministrazione di Mediobanca Uno dei brand di Bolloré si chiama Vivendi ed è in causa con la famiglia Berlusconi per essersi impegnato a comprare l'89% delle azioni di Mediaset Premium cioè la tv a pagamento di Mediaset, quella che non guarda nessuno dal 1933 proprio per il fatto che l'acquisizione non sembrasse così vantaggiosa come all'inizio pareva Vivendi si è tirata indietro e i Berlusconi hanno fatto causa per due miliardi Bruscolini, due spicci e nel frattempo io sto qui a guardare cataloghi di Lego City e dire eh però costano molto queste Lego eh anche tutto, anche niente proprio il punto Vivendi ha acquistato azioni di Mediaset ma non di Mediaset Premium Mediaset Mediaset quelli che producono i programmi giovani, quelli che piacciono a grandi e piccini tipo striscia la notizia immagino grazie all'acquisizione ora ha il 20% delle azioni e ovviamente chi ha la maggioranza delle azioni, semplificando moltissimo, comanda e infatti il gruppo Fininvest ha immediatamente acquistato delle altre azioni facendo salire la sua quota dal 34 al 40% del totale depositando nel frattempo una denuncia contro l'operazione presso il Tribunale di Milano e la Consob, l'autorità che vigila sulle operazioni di borsa l'accusa, spiegata semplice semplice, è che Vivendi abbia di proposito disatteso l'accordo con Mediaset Premium per far abbassare il valore di Mediaset sul mercato e poi intervenire successivamente e comprare la paura ovviamente è che Vivendi, quindi il buon bollo re, si metta d'accordo con le altre persone che hanno azioni di Mediaset e rovescia il controllo dell'azienda visto che per farlo deve rispettare comunque un sistema che si chiama offerta pubblica d'acquisto è un meccanismo che serve ad evitare che uno si prenda il controllo di una società da un secondo all'altro quindi è possibile ma è per ora un'ipotesi remota ed ecco i grandi pianistei, lunghissimi gemiti, ma non soltanto dai Berluscones ma dall'intero governo, questo governo, il governo Gentiloni il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha infatti parlato di scalata ostile ai danni di uno dei più grandi gruppi mediatici italiani e il vice segretario del PD Guerini ha parlato di politiche da mettere in campo per salvare Mediaset ora, parliamone un attimo, Mediaset è in pericolo? Nope, non lo è o meglio, dipende da cosa intendiamo per pericolo in un mercato libero è piuttosto comune che chi ha i capitali investa in aziende a prescindere da dove queste aziende siano collocate e chi ce li ha i grossi capitali, nonostante il mondo ospiti 7,5 miliardi di individui non sono poi così tanti succede spesso, peraltro Telecom Italia ad esempio Italia, indovinate da chi è controllata? Vivendi, è controllata da Vivendi e Omnital ve la ricordate? I miei Vodafone la chiamano ancora così fantastico Vodafone è britannica però, ceduta una quindicina di anni fa e Wind? Stessa cosa è ora un marchio Vimplecom multinazionale con sede nell'arcipelago delle Bermuda quello vero intendo, non le cose che si dicono tipo il Salento è come i Caraibi d'Italia sarà, ma parliamo proprio delle isole Bermuda potrei continuare a fare mille esempi da banche come la BNL a Parmalat ad Alitalia la compagnia di bandiera che si è fatto un casino per non venderla ai francesi soltanto per poi accogliere l'ingresso di Etihad Emirati Arabi Uniti Benissimo, in tutti i casi che ho citato non c'è stata quasi nessuna levata di scudi pubblica o da parte del mondo politico e anzi, prendete come esempio le squadre di calcio italiane che di fatto sono delle grandi aziende, anche importanti l'ingresso di capitali esteri è in genere ben visto perché non è che i cinesi arrivano, si comprano l'Inter e se lo portano via facendo giocare soltanto giocatori cinesi in campionati cinesi semplicemente operano in territorio italiano ma alle riunioni la sedia con lo schienale più alto è occupata da qualcun altro e tutti ora sono nel panico, perché? oltre l'ironia di un gruppo che fa capo a Berlusconi politico teoricamente liberale che chiede allo stato di mettersi in mezzo di un'operazione di borsa alcuni ipotizzano il casino politico sia legato al fatto che Mediaset è proprio di Berlusconi e la politica italiana ha sempre giocato su questa ambiguità di ruoli Berlusconi politico, Berlusconi leader della più grande tv privata del paese anche la sinistra lo ha fatto facendo spesso campagna contro questa cosa ma poi mai intervenendo sul conflitto di interessi quando ne ha avuto modo questa cosa poi è facile da sfruttare politicamente basta dire che ti stai opponendo alla svendita dell'Italia e la gente in genere ti dice bravo a me personalmente suona un pochino più come una sceneggiata messa su per dimostrare che il governo sia forte guarda caso questo casino scoppia dopo che il precedente è caduto un governo con Lorenzi che all'estero era percepito come molto stabile molto sopra gli standard italiani perlomeno il punto è che non so quanto poi si possa fare anche volendo nel concreto non lo so, staremo a vedere e comunque la cosa più importante è che non tocchino il gabibbo non lasci lì siamo a posto è un'istituzione com'è Ezio Greggio che grida le veline e la gente che critica Barbara D'Urso ma poi la guarda a scoppio la sacra trinità italiana sta in piedi quella il paese è a posto altre cose, mi avete chiesto innanzitutto di parlare della la fantastica decisione del sindacato degli studenti di Oxford di Oxford amici miei che ha chiesto che perlomeno prima che qualcuno ti dica quale sia il suo genere sono maschio, sono femmina gli studenti non utilizzino i pronomi classici quindi he, lui o she, lei ma li sostituiscano con uno nuovo neutro ovvero zi il che si applica a tutto, a tutte le forme quindi invece di dire himself dici zirself eh? eh? le buone battaglie occidentali allora, se ne parla molto perché l'ha ripreso il Guardian e ne ha parlato Repubblica ma sta roba non è nuova negli ambienti tumbleristici iper progressisti va di moda alla grande ed è anzi comune che ognuno si scelga i suoi di pronomi che è la cosa più ridicola del mondo ciao, sono Alessandro, il mio pronome è Fritz quindi non devi dire lui lo ha fatto lui devi dire lo ha fatto Fritz sono queste le battaglie che vogliamo combattere come generazione seriamente, io me lo chiedo sono queste qua lo sapete benissimo che nulla mi fa incazzare come il razzismo, il sessismo e il prendersela con le minoranze i diritti sono uguali per tutti donna uomo, stesso trattamento bianco o nero, stessa cosa etero o gay, fantastico nessuna differenza, molto importante ma quella è una cosa invertarsi regole linguistiche per difendere i sentimenti degli altri è tutt'altra cosa sono proprio robe diverse siamo oltre la questione sindaco-sindaca siamo in un'altra dimensione mi costa dire zii invece di sci? no, ovviamente anzi se uno me lo chiede io lo chiamo pure elicottero frega cazzi non sono uno di quelli che si riferisce a un transgender con il suo sesso di partenza soltanto per fargli un dispetto lol il mio occhio attento mi ha fatto notare che prima probabilmente eri un uomo quindi ora lo devo far sentire a tutti eh? sono sveglio? che dite eh? sei sveglissimo campione ma il punto è che non puoi imporre delle regole che creano confusione per tutelare la minoranza transgender che è ridottissima tra l'altro le stime parlano dello 0,3% della popolazione mondiale in modo che nessuno tra loro si senta mai offeso dall'essere stato definito lei invece di lui o viceversa non discriminato eh? non sei gay quindi non puoi sposarti e avere la reversibilità no no offeso wow i pronomi di genere sono fatti perché si riferiscono alle apparenze fisiche io ho l'aspetto di un uomo corpo di un uomo la gente dirà quel signore perché quella è la realtà è la normalità per la maggior parte degli individui uomo donna quando vedo Vladimir Luxuria dico quella donna uomo che si sente donna modifica il suo corpo per stare meglio con se stessa per vedersi come si sente donna fatto ma dove sta il senso di inserire il concetto di individuo generico per scansare l'improbabile ipotesi che riferendomi a una donna magari vestita in abiti maschili con un cappuccio in testa di spalle mentre il palazzo è in fiamme io possa sbagliarmi e dire quel ragazzo e poi questa si giri e oh no pua 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 è fine è tutto qui al massimo ho ferito i suoi sentimenti se vorrò chiederò scusa ma non sto discriminando nessuno non le sto impedendo per legge di affrontare il cambio di sesso o di essere assunta in un ufficio pubblico o prendere l'autobus basta con questa polizia delle buone intenzioni ma seriamente sono queste qui le battaglie che la mia generazione vuole combattere si invece di she oppure he per non offendere nessuno oppure l'asterischetto quello impronunciabile al posto della i finale in siete molto contenti in modo che le ragazze che sono invece contente non si sentano escluse rimaniamo nel reale le discriminazioni si affrontano combattendo gli stereotipi di genere non cercando di far finta che ne esista soltanto uno di genere in qualche modo correlato per chi volesse tracciare similitudini in India dodici persone sono state arrestate dalla polizia dopo essere rimaste in piedi durante l'inno nazionale trasmesso prima di vedere un film al cinema visto che dallo scorso ottobre la Corte Suprema lo ha reso obbligatorio stare in piedi di fronte a uno schermo con la bandiera indiana mentre suona l'inno pena sino a tre anni di reclusione c'è anche la solita polemichetta inutile attorno a una ministra tedesca donna Ursula von der Leyen che si è in questi giorni recata a Riyadh capitale dell'Arabia Saudita e ha deciso di non indossare la baia o abahia non ho mai capito come si pronuncia il vestito tradizionale quello che copre tutto il corpo che le sarebbe stato fatto avere o gli è stato regalato per dirla in modo più gentile dal governo prima dell'incontro diplomatico con il governo saudita appunto ovviamente la donna non l'ha indossato il vestito come in pratica nessuna politica occidentale fa mai quando è in visita dalla Merkel a Hillary Clinton sino a Michelle Obama e quindi wow che frizzante proprio parlando di Arabia Saudita vi ricordate i servizi delle Iene che non si è cagato nessuno e che mostravano come l'Italia venda armi ai sauditi anche se di fatto non potrebbe perché l'Arabia Saudita è in guerra con lo Yemen benissimo non siamo gli unici ovviamente anzi gli Stati Uniti hanno appoggiato e tuttora supportano la guerra in Yemen fatta da una serie di stati primi tra tutti i sauditi appunto che tentano di sedare una rivolta che ha scacciato il precedente governo tentando di instaurarne un altro filo iraniano di fatto lo Yemen è il campo di battaglia dove questi due paesi Arabia Saudita e Iran si fanno la guerra telecomandata e a soffrire delle spese sono i civili che muoiono nei bombardamenti di case, scuole, ospedali e mercati al solito gli Stati Uniti hanno più volte intimato ai sauditi di essere più precisi nel colpire gli obiettivi militari che un modo politico di dire di smetterla di fare cazzate ma questo non ha sortito nessun effetto per questo gli USA si sono impegnati ad arrestare la vendita di armi munizioni e missili rischiando ovviamente di alienarsi un importante alleato l'Arabia Saudita che hanno già scocciato permettendo all'Iran di sviluppare il loro piano nucleare civile bene volevo chiudere con questa notizia che passa in sordina a causa dell'altro grande conflitto quello tra Siria e Iraq giusto così per i fan del cerchio bottismo che anche ieri quando ho parlato di Putin sono tornati a dire che è sempre tutta la stessa cosa e quelli lì non li guardi non è così che funziona dire non ci sono buoni e cattivi non è come dire tutte le fazioni sono identiche e fanno le stesse cose quello è cerchio bottismo peraltro questo è tutto per oggi grazie per aver guardato e anche la fine della settimana domani c'è Breaking Italy Rewind e questo è l'alfiere di oggi Filippo mio giovane conterraneo diciottenne quindi domani Breaking Italy Rewind poi alcolismo poi ultima settimana prima della pausa natalizia poi capodanno e buoni propositi per l'anno nuovo di più